Ma sono online e nessuno mi dice niente? Va bene Ciao, benvenuto in questo canale Potrai trovare dei video sugli argomenti che puoi vedere nella copertina del canale qui sopra oppure se sei nella pagina del video ti dico che potremmo passare da HTML5 a Firefox OS da Debian a WordPress dall'EQT a Jaguar Insomma, chi più ne ha più ne metta però non ho una grande fantasia quindi scrivi nei commenti qui sotto oppure su Twitter se hai qualche idea per qualche video quindi a questo punto buona permanenza e iscriviti